Coach, una partita dura, una partita faticosa, che alla fine siete riusciti a vincere, con una Valsesia che merita il posto che ha nella griglia play-off. Aggiungo anche una partita che vale doppio, perché Milano oggi ha perso a Montecatini, Omegna ha stentato ma ha vinto, Piombino ha vinto in casa, Piombino la prossima gara in trasferte alla Fiorentina Basket, un quadro avvincente per questa Serie B che sta diventando sempre più interessante. Sì, allora, per quanto riguarda la partita di oggi, devo dire che non abbiamo vinto alla fine, ma siamo stati avanti per 40 minuti, abbiamo fatto veramente una partita solida, di fisicità, di durezza, come andava fatta e chiaramente Valsesia è una squadra che ha vinto sei trasferte quest'anno, quante noi, di conseguenza è una squadra importante che non è che viene qui e ti regala la partita, la lotta, però devo dire vinta e controllata bene per 40 minuti, una bella partita. Per quanto riguarda la classifica sapete che non sto dietro a questo, perché noi siamo partiti con l'obiettivo dei play-off, tutto quello che viene in più dell'ottavo posto, non vogliamo mettere pressione ai ragazzi né impazzire ogni giornata, Milano, Montecatini, sappiamo che ci sono squadre costruite per vincere più forti di noi, Milano è una squadra più profonda di noi, Omegna più profonda di noi, Piombino e Montecatini hanno le stesse nostre caratteristiche, è una lotta per tutto fino alla fine, vogliamo concentrarci sul miglioramento di questi ragazzi che come abbiamo visto anche oggi ogni tanto hanno delle sbavature da migliorare, per arrivare a giocare play-off al nostro massimo e per capire se siamo competitivi ai massimi livelli e se per un altro anno dobbiamo inserire qualcosa di più e cambiare qualcosa. Il nostro atteggiamento è questo. Coach, comunque la squadra risponde alle tue sollecitazioni, anche alle tue incavolature durante la partita e reagisce? È il segno positivo che ti segue? Certo, la squadra, i ragazzi sono eccezionali, le risponde alle mie sollecitazioni che sono di passionalità, di grinta, di lotta, quindi a volte servono anche per sferzare, per dare delle botte di adrenalina che secondo me servono. Niente, dobbiamo assolutamente continuare con questo atteggiamento, con questa volontà di migliorare. Adesso abbiamo due partite tostissime con due concorrenti importanti, Piombino e Milano, anzi colgo l'occasione per sollecitare tutti, tifosi, società, dirigenti, amici a concentrarsi sulla partita di Milano che sarà molto particolare perché in contemporaneo c'è le finali di Coppa Italia, rischiamo di avere poca gente, invece è una partita per noi dove vogliamo che sia una bella festa di sport, quindi inventiamoci qualcosa, sarebbe fantastico magari giocare al Mandela Forum dopo la finale di Coppa Italia, ma credo che non sia possibile per vari motivi, ma ecco, lancio lì una proposta per smuovere un po' le acque. Vediamo se verrà accolta. Grazie.